Sì, maissi Vai, butta, butta il tetta, tetta l'amo, eh Sì, sì Buttate il maissi Buttate il maissi Buttate il maissi Eccola una bella grande Guardate che bestia, ragazzi Guardate una bestia Sì, sì Eccola Sta mangiando Ragazzi, sta mangiando Non ce la prende Ah, più alto Eccola, l'ho sentita? Ecco Vai, 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 prendila Oh, ragà, che bestione Guardate che bestione Guardate che bestione, ragà Ok, ecco, ok Ma va bene questa? Sì, ma va anche questa Ma l'altro l'hanno presa La possiamo mettere nel tetto? Quante di venti La presa è buona da piccola Non vale tanto Non vale, la più grossa vince, vero? Sì Allora dai, Alessandra Dai che ce la metti Te dici che non è buona Dai, ributtala Solo la più grossa vince Sì, sì Sì, sì Aiutatela, aiutatelo Slamatelo Si la slama Slamalo Eh, guarda che pericoloso Slamalo Slamalo, Alessandra Io ce l'ho slamato milioni di volte Eh, quanti l'hai presi oggi? Sì Sì Slamalo Vai, Alessandra, slama, slama Un pentatolo, un pentatolo Un pentatolo Slamalo Slamatore 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 Io sto slamando Dovete attaccigliarlo qui attorno Eccolo Vai, vai, Alessandra E dovete girare Calmate, calmate Ecco, datene un giro C'hai dei professionisti, pesce stai tranquillo Stanno lavorando per te, dai, tranquillo E poi anche questa qui, questa carta è pesce Dottor Milaccettini Dottor Milaccettini Dottor Milaccettini Dottor Milaccettini Ora spingi, ora devi fare così Dottor Milaccettini Dottor Milaccettini Dottor Milaccettini Dottor Milaccettini Dottor Milaccettini Allora ragazzi, questa è una gara che prende il più grosso e vince Alessandro sta pescando Con dei suoi amici Con i suoi amici Dicci come ti chiami Matteo Gabriele Vai, Matteo Gabriele e Alessandro Veniamo raga Forse forse mangiano Aspetta che Dottor Milaccettini Dottor Milaccettini Dottor Milaccettini Oh, hanno preso la un bel bestione Questa è una gara che il più grosso vince Se era di chi ne prendeva di più Non si vinceva Non si vinceva Se chi era che ne prendeva di più grosso Se chi è più grosso non si sa mai 22 kg quanto sarebbe stato? Eh, bello grosso Alessandro, vedi un po' se c'è ancora da mangiare Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, riprova Vai No Vai, vai, vai Piccolo, piccolo 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 Lo slamatore No, no, non serve Cos'è? Bendatelo Bendatelo Ci sono una potenza scheristica Qui Fai vedere dove è No, 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 non è stato questo pesce Buttamelo via il 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 pesce Ah, lì, capri, bucciolo Ah Con due mani Via, via, piccolo, piccolo Non vince questo Non vince Ho fatto il cammellone alla sua scuola Ale, attento con questi ami Oh, attento Io mi sono preso il pesce dito Vai, beccato, qualcuno? No, bimbi, è che è prodotto il mais Vabbè, il mais Vabbè, il mais non fa niente Vamo col nero, va Vai Chi me lo tiene? Vabbè 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 Che siamo noi Attento Lontano dalla gente Lontano dal figlio Lontano da tutto Vai Vabbè 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 Mi sa che a bocca sopra Prendi me Magnate E' traffico ragazzi Ma lascia così, intanto la pelle Piccolo, piccolo, piccolo Piccolo, piccolo, non vince Questa pressione abbiamo Torniamo, torno, torno Madonna che bestia E' più grossa, questa è più grossa Magnate Magnate E' da magna E' da magna Madonna è bestia E' più grossa, questo è solito Questo è solito Ma è messa Ma le hanno preso un piccolo lì a destra c'è quello gigante eccitiamoli vai dai che c'è un po' dai che vinci quello è intorno uno no il più grosso uno solo ma no poi viene anche uno solo ma se il più grosso vinci tu e cosa si vince? la borsa della spesa si te l'ho scritta al concorso madonna raga che emozionante piccolo 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 dai qui sotto ci sono le bestie si si vai a buttare giù madonna chamat dici secondo me è adesso un Shirley un po' dei maestri no, dai, dai se non lo riconosco eccolo, se stai maniando se stai incitando eccolo uccidante sta maniando no, io lo portavo zitto, zitto, col maestri eccolo uccidante va, va, va va, va, che bestione preso va bene va da chiamare va da chiamare bimbi, mi date il fazzoletto ma te passo il fazzoletto bendatelo non lo dobbiamo bendare, lo dobbiamo fermare giralo giralo ecco, giralo, giralo ancora di più sai che sono di più grosse le sandwich le sandwich ok, io sono là dentro eh per essere sicuri allora vai tocca ripetere un altro e fare un'altra pescata però c'è il tonno ha preso eh il tonno non c'era si, c'era il tonno e no è lungo un metro ci sono i pescigli ecco l'altro pastura, pastura vai vai un po' di pellet decidiamolo vai col pellet vai da rim ma proporzare persone centraloli e molto Vai sotto con il dito Vai, butta, 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 butta giù Eccola una bella grande Guardate che bestia Eccola, sta mangiando, raga sta mangiando, se la prende Eccola, sentita, ecco vai 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 vendila vendila che bestione guardate che bestione non vale la più grossa vince vero allora dai Alessandra dai che ce la metti te dici non è buona dai ributtala solo la più grossa vince aiutatela aiutatelo si la slama slamalo guarda che pericoloso slammalo Alessandra io ce l'ho slammato milioni di volte quanti l'hai preso oggi? vai Alessandra slama slama pentatelo lo slamatore, slamatore slama dovete attaccigliarlo qui attorno e dovete girare calmati calmati ci hai dei professionisti stai tranquillo dai stanno lavorando per te dai tranquillo però anche questa qui questa carta cresce dottor mille cedini pasturiamo un piccolo va benissimo vai butta vai qualcuno mangia anche il palletto di ale si si questo si è seppia il tonzi eh l'ho lasciato perché sono partito così a casaccio vai a vedere tira su l'hai preso l'hai preso no no non tira non lo fa scappare calma calma che bestia no ale no 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 dai prendilo è il più grosso tira su è il più grosso tira su che hai vinto dai ale dai con calma e vai che bestia che bestia il più grosso di tutti mi pare che ho detto guardate se ci pia che figata piano 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 madonna che grossa hai vinto Alessandro che bestia il tonno il tonno il tonno è tirato su su madonna Susan ben andato ben andato dove ce l'ha il lamo? dai è uscito già è già uscito vai si butta dentro e vai no no dentro la cesta questa vince schiappa lo bene con lo straccio larga vai 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 la cesta vai vai madonna che bestia vale ancora ripetiamo su 5 vai a tutti i ragazzi pollici in su dai Ale saluta no no saluto carico il video solo vai ciao ragazzi